Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video sul nostro canale YouTube. Oggi scopriremo insieme le caratteristiche di un nuovissimo passeggino di casa Amigo e infatti parleremo insieme del nuovissimo passeggino Zoè. Come sempre però prima di addentrarci nel mondo del passeggino Zoè e spiegarvi perché ne ho ben due qui davanti a me vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al nostro canale YouTube e riattivare la campanella delle notifiche per ricevere un piccolo avviso ogni volta che pubblichiamo un nuovo video e che mettiamo quindi a vostra disposizione un codice sconto per l'acquisto dei prodotti che vi mostriamo e che trovate come sempre tutti disponibili sul nostro shop online www.casababy.it e ovviamente anche alla fine di questo video vi lasceremo un codice sconto per l'acquisto di questo bellissimo passeggino. Innanzitutto voglio spiegarvi come ha fatto questo bellissimo passeggino a entrare nella cerchia dei passeggini appunto venduti da Casa Baby per chi di voi ci segue da tempo sicuramente si ricorderà che fino a uno o due anni fa ci chiedevate praticamente in tutte le salse i passeggini Migo, Ruby e Cassie Ruby purtroppo è un passeggino che Migo non produce più mentre Cassie per scelta nostra abbiamo appunto deciso di non acquistarlo più perché è un passeggino omologato fino a 15 kg e come sapete ormai la gamma dei passeggini che vendiamo sul nostro shop online è praticamente omologata tutta 22 kg quindi per scelta nostra abbiamo deciso di non acquistare più il Cassie e quindi eravamo in attesa che l'azienda Migo producesse finalmente un passeggino sostitutivo di questi passeggini che voi avete amato tantissimo e adesso che ha prodotto il passeggino Zoe ovviamente noi abbiamo colto la palla al balzo e abbiamo deciso di metterli all'interno della nostra scuderia innanzitutto vi spiego come mai ho qui davanti a me due passeggini infatti davanti a me ho due passeggini Zoe uno nella versione classica e l'altro nella versione premium infatti non so se già a occhio ho riuscito a notare qualche piccola differenza per esempio riguardante le ruote ma andiamo adesso a vedere più nel dettaglio quali sono le caratteristiche di questo passeggino Zoe nella versione classica e nella versione premium e quindi iniziamo andando a scoprire quelle che sono le loro caratteristiche tecniche la prima cosa che appunto voglio sottolineare anche se ve l'ho già anticipata è che entrambi questi passeggini sono omologati per essere utilizzati fino a 22 kg cioè fino all'incirca i 4 anni del vostro bambino e sono anche molto molto leggeri perché il nostro passeggino Zoe Classic pesa 6 kg mentre il nostro passeggino Zoe Premium pesa invece 6,5 kg inoltre come potete vedere abbiamo per entrambi un maniglione unito foderato in ecopelle con al centro i pulsantini per andare a chiudere il nostro passeggino vi faccio anche vedere appunto le ecopelle dei due passeggini nella versione premium come vedete abbiamo anche delle cuciture a vista in contrasto con la colorazione del maniglione e volevo anche farvi vedere che i due maniglioni sono ad altezze differenti proprio perché il nostro Zoe Premium ha le ruote più grandi quindi il maniglione risulta ad un'altezza differente li vado a misurare così vediamo bene nello specifico qual è l'altezza di ogni maniglione allora il nostro Zoe Classic ha il maniglione che da terra misura 98 cm mentre per quanto riguarda il nostro Zoe Premium abbiamo un'altezza di un metro e uno quindi c'è solo qualche centimetro di differenza però come potete vedere si nota altra differenza fra i nostri due passeggini è che come vedete nella versione classica abbiamo già anche in dotazione il nostro portabibite cosa che invece non troviamo nella versione premium passiamo adesso a vedere invece quali sono le caratteristiche delle nostre cappottine allora la nostra versione premium ha una cappottina con un tessuto trattato con UPF 50+, per la protezione dei raggi solari ecco qui l'etichettina cosa che non troviamo invece nella versione classica inoltre la nostra versione premium ha la possibilità di andare tramite la zip ad estendere la cappottina al centro dello spicchio che appunto siamo andati ad aprire troviamo anche la nostra famosa retina per poter andare a vedere il bimbo una volta posizionato all'interno della nostra seduta invece nella versione classica come vedete la cappottina è già al massimo quindi non si può estendere ulteriormente e troviamo comunque la nostra letta apribile con la zanzariera per andare a vedere il nostro bambino in questo caso si va a richiudere semplicemente con il velcro altra cosa riguardante la cappottina ma in questo caso vado a girare i passeggini così la vediamo meglio come vedete nella parte posteriore abbiamo vado a reclinare lo schienale così si vede meglio abbiamo per entrambe una taschina portoggetti quindi in questo caso abbiamo qui presente la nostra taschina nell'altro caso quindi nella versione premium come vedete abbiamo una taschina apribile con una chiusura calamitata quindi qui non abbiamo nulla per andare a chiudere la nostra taschina mentre nella versione premium come vedete abbiamo una piccola calamita che ci permette di andare a chiudere il tutto nella versione però classica abbiamo la possibilità come vedete di andare ad aprire la parte posteriore della nostra cappottina andarla a sollevare in questo modo e ritroviamo come vedete la nostra retina con zanzariera che ci permette una migliore reazione all'interno della seduta questa parte invece nella nostra versione premium come vedete non la troviamo quindi abbiamo una capottina completamente chiusa mentre sono qui ne approfitto anche per farvi vedere la reclinazione di entrambi i passeggini come vedete è una bella posizione nanna vado ad abbassare le capottine così riuscite anche a vedere l'interno del passeggino ve li metto magari uno di fianco all'altro così andate a vedere il confronto appunto fra le due reclinazioni ecco qui come vedete direi che comunque è un'ottima reclinazione per entrambi i modelli come avete visto per andare a reclinare il nostro schienale ho utilizzato il classico metodo aculis vedete quindi basta semplicemente premere questa parte qui e possiamo andare ad abbassare il nostro schienale ovviamente lo possiamo regolare a tutte le altezze intermedie che vogliamo sia per un modello che per l'altro voilà vado a risollevare i nostri schienali così andiamo a vedere insieme quali sono le caratteristiche interne della nostra seduta allora innanzitutto vi dico che le misure interne dei nostri due passeggini sono le stesse quindi vado a prendere il centimetro e le vediamo insieme ne misuro uno solo perché appunto come vi dicevo sono uguali precisi identici per quanto riguarda le misure delle sedute allora lo schienale misura in altezza 41 cm e ha una larghezza di 34 cm per quanto riguarda invece la nostra sedutina abbiamo una larghezza di 34 cm e una profondità di 21 cm che si trasformano in 35 cm con il poggiapiedi alzato visto che vi ho parlato del poggiapiedi vi faccio anche vedere come si fa per andare a sollevare il nostro poggiapiedi basta semplicemente andare a sollevare la nostra letta come vedete nella parte sottostante abbiamo questo piccolo supporto basta estrarlo e andare ad appoggiare il nostro poggiapiedi sia sul modello premium sia sul modello classico vedete andiamo ad ampliare di molto la sedutina del nostro passeggino altra cosa che hanno in comune ovviamente è il davantino che riprende la lavorazione dei maniglioni quindi anche in questo caso abbiamo un rivestimento in ecopelle nella versione premium ritroviamo di nuovo tutte le cuciture a vista e abbiamo anche il logo della nostra azienda ed è un maniglione che si può andare anche ad aprire o a rimuovere semplicemente andando a premere i pulsantini laterali sia qui che nella versione classica vedete è davvero super super semplice su entrambi abbiamo spallacci e spartigambe imbottiti devo dirvi che nella versione premium gli spallacci sono decisamente più imbottiti rispetto alla versione classica e in più si possono togliere in maniera super super easy per poterli andare a lavare basta semplicemente sfilarli quindi davvero semplice andiamo a richiuderli con i poussoire ecco qui e vi faccio anche vedere l'apertura delle cinture come vedete è uguale e precisa identica sia sul modello che sull'altro basta semplicemente premere il pulsantino centrale e come vedete si vanno a separare tutte le cinture e possiamo andare a separare anche le cinture che passano sulle spalle da quelle che passano intorno alla vita per poterli andare a regolare singolarmente quindi davvero super super semplice chiudiamo di qua e chiudiamo anche di qua voilà per quanto riguarda la seduta non mi resta che prendere la misura dell'altezza della seduta da terra così anche su questo abbiamo i nostri dati che ci servono per poter andare a scegliere un modello piuttosto che un altro allora il nostro passeggino Zoe Classic ha una seduta che misura da terra 42 cm per quanto riguarda invece il nostro Zoe Premium abbiamo un'altezza di 44 cm sempre ovviamente dovuta alla questione della dimensione delle ruote poi scendiamo e come vedete abbiamo a disposizione anche un bel portoggetti portoggetti è uguale sia su una versione che sull'altra devo dire abbastanza ampio visto che stiamo parlando di un passeggino leggero ed anche bello robusto in più come vedete sia sul modello Premium che sul modello Classico abbiamo in dotazione il nostro freno per poter andare a bloccare le ruote posteriori quindi basterà premerlo in questo modo per andare a bloccare completamente le ruote e sollevarlo per riprendere la marcia ma andiamo adesso a vedere quali sono le differenze fra le ruote dei due modelli come potete vedere infatti la differenza maggiore fra le due versioni del passeggino Zoe sta proprio nelle ruote un po' nelle dimensioni perché la versione Premium cioè questa qui ha le ruote posteriori che misurano 18 cm e quelle anteriori che misurano 14 cm mentre la versione classica del modello Zoe che è questa qui con le ruote più piccoline ha delle ruote che misurano 12 cm sia nella parte anteriore che nella parte posteriore inoltre come potete vedere il nostro modello Zoe classico ha la ruota liscia quella che trovate sul 99% dei passeggini mentre il nostro modello Zoe Premium come vedete ha una ruota gommata e soprattutto ha tutta questa parte in rilievo che permette un migliore grip della ruota sul terreno infatti la versione Premium è adatta a qualsiasi tipo di terreno mentre per quanto riguarda la versione classica è quella che vi consigliamo di più da utilizzare in città i passeggini sono entrambi ammortizzati quindi davvero potete utilizzarli dovunque e come vi dicevo sono davvero super super leggeri e super super compatti una volta chiusi volevo ancora farvi vedere il movimento della ruota sul nostro pavimento che è un pavimento super super liscio quindi è davvero difficile come vi dico sempre che la ruota si aggrappi al pavimento per far vedere il movimento quindi vuol dire che hanno davvero un'ottima rotazione proprio a livello di meccanismo davvero favolosi infatti come vedete sono ruote più rettanti a 360 gradi sia in un caso che nell'altro e come sempre per quanto riguarda le ruote vi faccio sempre la precisazione due o tre volte l'anno andate a rimuoverle andate a pulire spruzzate cioè pulite l'ingranaggio per togliere tutti i residui di polvere e spruzzate uno spray al silicone per mantenere sempre i meccanismi ben oleati quindi ci mettete tre secondi ma è davvero importante per la manutenzione del vostro passeggino vi accennavo prima alla chiusura una chiusura favolosa e devo dire super veloce sia in un caso che nell'altro perché il procedimento per andare a chiudere il passeggino è lo stesso sia nella versione classica che nella versione premium come vi ho detto prima ci sono i pulsantini direttamente sul nostro maniglione quindi spingiamo il nostro pulsantino superiore e andiamo a premere il pulsante che invece troviamo sotto spingiamo leggermente in avanti come vedete il nostro passeggino si va a chiudere semplicemente lo andiamo ad accompagnare controlliamo di aver ben agganciato il meccanismo di sicurezza laterale vedete in modo tale che il nostro passeggino non rischi di aprirsi mentre andiamo avanti come vedete il passeggino sta in piedi da solo ed è super super piccolo guardate quanto è compatto una volta chiuso il meccanismo di chiusura è lo stesso anche per la versione classica anche in questo caso andiamo a controllare di aver agganciato bene il nostro meccanismo di chiusura di sicurezza laterale guardate la compattezza di questi due passeggini cioè sono davvero davvero favolosi entrambi super compatti occupano davvero poco spazio ma soprattutto sono super super slim volevo fare magari la differenza con dei modelli già conosciuti sul mercato quindi magari li vado a prendere e ve li faccio vedere nel frattempo sposto un po' più in là questi così mi faccio lo spazio e vado a prendere due modelli che sicuramente riconoscerete cioè il cam compass e l'inglesina now ho scelto questi due passeggini perché non solo sono fra i passeggini che maggiormente vi consigliamo ma sono anche quelli che conoscete di più in modo tale che possiate vedere bene la differenza dell'ingombro fra il passeggino now il passeggino compass e le due versioni del nostro nuovissimo passeggino zoe come vedete sono davvero super super slim anche in confronto a queste chiusure che noi già consideriamo chiusure top quindi qui davvero si raggiunge un livello favoloso per quanto riguarda l'ingombro del passeggino in auto o durante i vostri viaggi eccetera direi che a vederli così non bisogna più aggiungere altro perché parlano da soli torniamo però adesso ai nostri due passeggini zoe andiamo a vedere come si aprono anche in questo caso l'apertura è la medesima per entrambi i modelli dobbiamo come prima cosa andare a sbloccare la levetta di sicurezza di cui prima ci siamo assicurati l'aggancio e poi semplicemente dobbiamo accompagnarli nell'apertura quindi davvero vedete che è super 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 semplice ma soprattutto essendo due passeggini uno da 6 kg e uno da 6 kg e mezzo sono davvero super leggeri da maneggiare andiamo adesso a vedere invece quali sono gli accessori già inclusi all'interno dei vostri passeggini zoe anche in questo caso gli accessori sono gli stessi sia nella versione premium che nella versione classica e troviamo quindi il nostro parapioggia la nostra sacca per poter andare a trasportare il nostro passeggino una volta chiuso per evitare che appunto si vadano a sporcare i tessuti come vedete ha anche la sua tracollina per poterlo portare comodamente e il terzo accessorio incluso lo vedete già montato sul passeggino ed è il coprigambe un coprigambe tra l'altro molto molto intelligente infatti come vedete si va ad agganciare semplicemente alla struttura del nostro passeggino con il velcro sia nella parte superiore che nella parte inferiore ma la caratteristica principale di questo coprigambe è che come vedete ha un'apertura centrale il che ci permette di andare ad inserire il nostro bambino all'interno del passeggino senza andare a mettere e togliere tutte le volte il nostro coprigambe cosa dobbiamo fare? dobbiamo semplicemente andare ad aprire i nostri pussuare andare ad aprire la zip centrale come vedete vado ad aprire il mio coprigambe posso adagiare tranquillamente il mio bambino all'interno della seduta sistemare piedi e gambine e poi andarlo a richiudere in maniera super easy e super veloce quindi direi che davvero questa è un'idea super che ci permette di risparmiare tempo perché non dobbiamo come vi dicevo tutte le volte andare a sganciare e ad agganciare interamente il nostro coprigambe sul passeggino direi che abbiamo visto in completo quali sono le caratteristiche del nostro passeggino zoe di Migo sia nella versione classica che nella versione premium e quindi non mi resta che lasciarvi il codice sconto per l'acquisto di questi due prodotti sul nostro shop online www.casababy.it come sempre utilizzare i nostri codici sconto è davvero semplicissimo dovrete andare ad inserire il prodotto che maggiormente vi aggrada all'interno del vostro carrello e vi dico già che al momento le uniche colorazioni disponibili di questo prodotto sono quelle che vedete quindi per la versione classica abbiamo zoe in versione gold mentre per la versione premium abbiamo zoe in versione kaki quindi al momento ci sono solo queste due quindi andate a scegliere il modello e la colorazione che maggiormente vi aggrada l'andate ad inserire all'interno del vostro carrello e nell'apposito spazio dovete inserire il codice sconto YTZOE quindi senza accenti senza niente super semplice ve lo lascio scritto qua e ve lo lascio scritto come sempre giù nell'info box così se vi è sfuggito qualcosa riuscite ad andarlo a recuperare tranquillamente sempre giù nell'info box vi lascio poi anche il link per trovare più facilmente questi due articoli sul nostro shop online www.casababy.it vi lascio una breve descrizione di entrambi i passeggini anche se come sempre trovate la scheda tecnica completa sempre sul nostro shop online al link che vi lascio e vi lascio anche i link a tutti i nostri canali social in modo tale che possiate seguirci anche lì e rimanere sempre aggiornati su quelle che sono le novità in arrivo ma soprattutto sugli sconti e le promozioni che creiamo ogni mese e in particolare ogni weekend per voi quindi mi raccomando noi vi aspettiamo sui nostri canali social iscrivetevi al nostro canale youtube e attivate la campanella delle notifiche e direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo ciao